Una valanga di resoconti, una valanga di iniziative che verranno a dimostrazione che forse questa associazione, questo Monte Bramma, è una cosa viva, molto viva, perché ci vorrebbero tre giorni per raccontare tutto. Dici qualcosa di particolare. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Siamo partiti dal bilancio dei biglietti staccati nel corso del 2023. Un aumento del 17% rispetto all'anno prima. Siamo passati da 133.000 visitatori nel 2022 a 156.000 visitatori. Grande effervescenza per il fatto che questo è il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento del complesso monumentale di Monte Bramma. Dunque ci saranno tantissimi eventi celebrativi. Uno di questi sarà la nuova esposizione dei giganti. Siamo arrivati qua nella sala del paesaggio. Grazie alla collaborazione con gli uffici periferici del Ministero riusciamo a fare una mostra temporanea e facciamo visitare i giganti come prima mai si sono visti a Cabras, cioè nella loro tridimensionalità. Sarà l'anno di tre nuovi cantieri di scavo tra Concheillonis, Cannevadosu e la prospezione della laguna di Cabras. Sarà l'anno dei cantieri di infrastrutturazione e di lavori pubblici tra Monte Bramma, Tarros, San Salvatore e il Museo. Rientra nell'attività scientifica quella che è una richiesta di indagini e prospezioni archeologiche abbastanza importanti nel territorio del Sinis di Cabras. Fermo restando che la soprintendenza archeologica continua a portare avanti il suo progetto di ricerca a Monte Bramma. Fermo restando che le università di Cagliari e di Bologna continueranno a portare avanti le indagini e le prospezioni a Tarros. La fondazione ha deciso invece di andare a proporre tre azioni che andrebbero a completare in realtà la conoscenza e lo stato dell'archeologia del Sinis di Cabras. Grazie. 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 Grazie.